In questo video voglio parlarvi un po' di tutti quei problemini che affliggono il OnePlus 5 problemini insomma si fa un po' per dire perché alcuni sono errori piuttosto grossolani per essere preciso sono tre le questioni di cui voglio andarvi a parlare però prima sigla Allora il signorino qui ha fatto molto parlare di sé online per via di tre problemi appunto il jelly scrolling l'audio invertito e i benchmark falsati alcuni di questi problemi erano tranquillamente evitabili alcuni possono essere risolti ma ancora non è stato rilasciato alcun aggiornamento software in merito per appunto ovviare a queste problematiche partiamo con il jelly scrolling in sostanza quando ad esempio ci si presenta un elenco di applicazioni come può essere ad esempio ecco il drawer delle app e inizio a fare uno scrolling su e giù come sto facendo io ora riuscirete a vedere chi più che meno dipende anche dal dispositivo che avete in mano se magari quel particolare terminale si vede di più questo effetto oppure meno nel mio caso non si vede poi così tanto e si noterà questo effetto così gelatinoso effetto elastico molla sul mio esemplare appunto non si nota molto però ho visto dei video online dove veramente il problema è ben evidente e piuttosto fastidioso sebbene a me questa caratteristica insomma non dispiace più di tanto ad alcune persone magari anche a lungo andare potrebbe far venire veramente il nervoso cosa è successo sostanzialmente lo schermo che voi vedete ora è messo al contrario lo schermo giusto orientato correttamente sarebbe così in pratica cosa ha fatto oneplus ha preso lo stesso schermo del 3t perché è lo stesso l'ha preso e l'ha capovolto e l'ha messo su oneplus 5 secondo me speravano che l'utenza non se ne accorgesse e invece insomma questo questa mossa è saltata fuori ovviamente ha indignato non poche persone quindi mi viene automatica una domanda ma perché invertire il display allora sono due sostanzialmente l'ipotesi una è quasi esclusivamente per colpa della fotocamera quindi lo schermo è stato ruotato ai 180 gradi per via della fotocamera che era troppo grossa e le componenti non ci stavano per una questione di spazio un'altra ipotesi è che oneplus abbia più o meno deliberatamente copiato il layout interno di iphone 7 plus perché vedete il retro già qui sembra un iphone 7 plus in rete è scoppiata la bufera e si dice però che anche internamente oneplus abbia cercato appunto di riprodurlo la verità io non la so la verità online non la si trova solo oneplus la sa forse mai la sapremmo fatto sta che l'azienda ha cercato in tutti i modi insomma di scusarsi dicendo che questo effetto del jelly scrolling è normale e che quindi gli utenti insomma devono stare tranquilli e che si tengano insomma al loro telefono perché questo è questo rimane nell'immagine che state vedendo in sovrimpressione in questo momento potete notare come il connettore del display del 3t orientato correttamente sia posto in alto a destra mentre sul 5 capovolgendolo è andato a finire in basso a sinistra questo strano posizionamento è stata una scelta voluta pianificata dagli ingegneri di oneplus non è che c'è stato l'addetto in catena di montaggio che ha sbagliato che ha invertito lo schermo no è tutto pianificato così è il telefono così l'hanno pensato al che io allora ho messo in moto il mio cervello e ho pensato ma se si presenta questo effetto di jelly scrolling dato che lo schermo così è capovolto cosa succede se io lo giro il problema non si presenta più jelly scrolling sparisce questo perché è dato semplicemente da come vi viene presentata l'immagine ecco perché anche un addetto al supporto oneplus ha risposto ad un utente guarda è una questione di abitudine dell'occhio noi siamo abituati ad uno scan rate orizzontale di un dispositivo che va dall'alto verso il basso vuol dire che ad ogni refresh il primo pixel si illuminerà così farà il secondo e via via per ogni riga fino ad andare ad illuminare tutti i pixel e quindi a refreshare l'intera schermata se noi lo capovolgiamo però inizierà ad illuminare i pixel dal basso verso l'alto ecco perché nel oneplus 5 ci sembra di vedere questo effetto jelly scrolling infatti guarda caso se lo giriamo questo non succede non ci si può fare niente lato software non si può modificare nulla è un problema non è un problema hardware quindi così è e così ve lo dovete tenere magari oneplus ci aveva pensato che poteva presentarsi questa anomalia però non ha voluto comunque eseguire un piccolo upgrade dello schermo perché sarebbe costato troppo e va bene sono scelte che si fanno scelta che io non condivido ripeto avrebbero potuto eseguire un leggero upgrade almeno per evitare questo tipo di problematiche ora veniamo al problema dei benchmark truccati qui c'è da parlare un pochetto di più forse da un po' di tempo a questa parte sulla oxygen os appunto la rom che è installata appunto sul oneplus 5 ma non solo anche su oneplus 3t eccetera ha subito delle modifiche che portano appunto la oxygen os a riconoscere quando è in esecuzione un'app di benchmark c'è una sorta di file un manifest che contiene gli id dei pacchetti di tutte le applicazioni di benchmark selezionate accuratamente selezionate da oneplus tra cui c'è il classicissimo antutu benchmark causato anch'io nella mia recensione lo scandalo qual è stato che quando il sistema riconosce queste applicazioni pompa le prestazioni della cpu e quindi i benchmark risultano leggermente sfalsati perché mostrano un punteggio più alto di quello che in realtà farebbe lo smartphone senza appunto aumentare il clock dei core sapete bene sicuramente che il oneplus 5 ha a bordo snapdragon 835 octa core quattro core funzionano ad una frequenza superiore ai 2 gigahertz mentre altri quattro core detti anche little core vanno al massimo fino a 1.9 gigahertz oxygen os cosa fa? avvio antutu benchmark? avvio il benchmark? benissimo io faccio in modo che quei quattro little core, quei core fino ad un massimo di 1.9 gigahertz funzionino esattamente alla frequenza massima 1.9 così facendo però è dannoso dal punto di vista batteria la si può danneggiare dal punto di vista termico soprattutto perché tu in pratica inibisci i controlli termici sul processore ed è questo quello che ha rimproverato a oneplus il senior engineer di google tim murray spero di averlo detto giusto che perché poi lo so che mi linciate nei commenti non stiamo parlando di overclock è attenzione perché overclock vuol dire che se io ho il processore che può andare a massimo 1.9 lo faccio andare ad una frequenza maggiore no non parliamo di questo ma comunque la spinta c'è e si vede nei risultati dei benchmark ho fatto un paragone tra i risultati ottenuti con xiaomi mi 6 e oneplus 5 che hanno stesso processore la ram vabbè 2 giga in più sul oneplus 5 ma comunque siamo lì e risultati effettivamente su op 5 sono maggiori e facendo una prova con 3d mark guarda caso su oneplus 5 la frequenza il clock del processore è maggiore ma chissà come mai naturalmente le scuse dell'azienda sono arrivate molto puntuali carl pay il co fondatore di oneplus online ha scritto che è stato fatto questo per far vedere ciò che realmente è in grado di fare il processore ma non ce n'è bisogno è uno smartphone potente così com'è secondo me si stanno di nuovo arrampicando sugli specchi ora per carità sono molto critico in questo momento nei confronti di oneplus però non fraintendetemi il 5 è veramente un buon smartphone ma io non capisco perché abbiano fatto questi giochettini che sinceramente non hanno né capo né coda andiamo avanti però con il terzo problema terzo e ultimo poi vi lascio andare che riguarda l'audio invertito sì perché con noi quando avviamo una registrazione video in landscape se l'avviamo con il finger print rivolto verso destra l'audio risulta invertito quindi il canale sinistro è destro e il destro è sinistro cioè non ha senso perché tra l'altro se lo giro dall'altra parte quindi col sensorino di impronte rivolto verso sinistra il problema non non persiste più quindi vuol dire che i canali audio destro e sinistro non vengono switchati non vengono invertiti in base all'orientamento del display cosa che tutti gli smartphone fanno ma sapete qual è la cosa che mi lascia ancora un po più perplesso è che anche sul 3t si presenta lo stesso identico problema ma ce ne siamo accorti solo ora e a quanto pare anche l'azienda se ne accorta solo ora io ho capito che uno fa un video in landscape magari non sta mica tanto lì a sentire ah ma quella voce viene da sinistra piuttosto che a destra no vabbè magari no però oneplus dovrebbe essersene accorta in fase di produzione di pianificazione di questo telefono di sviluppo no cioè voi volete dirmi che oneplus non ha mai preso in mano questo dispositivo non ha mai fatto un video in landscape non ha mai riscontrato un problema simile io stento a crederci se però magari siete scettici su questa cosa ora vi do la conferma facendo una prova in questo momento ho la camera sono in landscape con il finger print rivolto verso destra avvio la registrazione fingerprint rivolto verso destra ora sto parlando a sinistra e si sente a destra ora sto parlando a destra e si sente a sinistra esattamente è proprio così l'audio è invertito ma allora facciamo un'altra prova semplicemente rivolgendo il finger print dall'altra parte prova con il finger print rivolto verso sinistra ora sto parlando a sinistra ora sto parlando a destra questa prova è chiara lampante del fatto che effettivamente c'è qualcosa che non va questo si può essere risolto via software anzi oneplus ha già promesso un aggiornamento in merito mi è arrivata la versione 4.5.6 da poco però ancora non è stato risolto vediamo se con la 4.5 con un'ipotetica 4.5.7 questo potrà essere risolto definitivamente insomma questi erano i tre problemi che vi ho voluto esporre in merito a oneplus 5 se vi ricordo se non avete visto la recensione guardatela perché è interessante nella recensione non ho accennato a questi problemi altrimenti già durava 16 minuti altrimenti sarebbe durata 20 o 25 per questo video è tutto ragazzi ditemi anche voi nei commenti che cosa ne pensate di queste così complicanze cosa avrebbe dovuto fare secondo voi oneplus e cosa vi aspettate che possa fare che possa migliorare in un futuro oneplus imparando dai suoi errori vi ringrazio per aver visto questo contenuto multimediale e noi ci vediamo in una prossima nuova produzione qui sul canale qui su tech da nicolò cummerlato è tutto ciao grazie